Altro che maxiprocesso, quello in corso a Vicenza contro i vertici della Banca Popolare è un iperprocesso, con le 7600 costituzioni di parte civile contro Gianni Zonin e gli altri amministratori dell'Istituto di Credito e i più di 700 testimoni chiamati a parlare davanti al giudice. In vista delle prossime udienze servono quindi spazi adeguati. Uno tra questi è quello del teatro comunale, però è chiaro che deve essere possibile portare la linea di protezione per la diretta video e questo dobbiamo valutarlo in queste ore. È un'ipotesi, non è detta che sia l'unica, ne stiamo parlando col Presidente del Tribunale. L'edificio di Viale Mazzini, opera di Gino Valle, ha più di 900 posti nella sala maggiore e altri 380 nel ridotto. Una volta risolto il problema delle linee di trasmissione dati criptate ad uso del Tribunale, sarebbe il luogo adatto per evitare di dover trasferire tutto all'aula bunker di Mestre. Questa è la difficoltà più grossa, garantire ai vicentini la possibilità di vedere il processo in diretta. Dobbiamo trovare una soluzione e ne parleremo con il Presidente a breve. Tra i 7600 ricorrenti in sede civile c'è anche il Comune di Vicenza, che ha chiesto di essere risarcito per il danno di immagine subito dalla città. A chi verrà destinato l'eventuale indennizzo? Per aiutare per esempio quelle persone che hanno avuto danni pesantissimi, in particolare famiglie anziani, che hanno visto perdere tutti i risparmi di una vita e oggi vivono in difficoltà, magari con la pensione minima o con uno stipendio unico in famiglia.